Il prossimo martedì 2 luglio prenderanno inizio le trasmissioni del nuovo ciclo della trasmissione del credito del debito. Don Luca, il senso di queste trasmissioni? Certo, un'occasione davvero importante per mettere a fuoco tutti quelli che sono gli elementi salienti di questi aspetti economici che tante volte vedono famiglie o singoli in difficoltà e in questo ciclo di incontri vogliamo proprio dare degli strumenti per leggere momenti, situazioni di vita, per avere anche una serie di prudenza anche di fronte a tante trappole che possono esserci quando poi si trova in difficoltà, in crisi e magari si cercano soluzioni. Quindi insomma un'occasione per mettere a fuoco e appunto opportunità per non disperarsi ma provare a trovare delle importanti soluzioni di ripresa. Ringrazio te perché sei responsabile di questo servizio e la porti avanti con tanto impegno. Credo che sia importante avere queste luci per guidarci appunto e guidare un po' tutti, non solo quando si è in difficoltà e in crisi ma anche per saper cogliere magari qualcuno vicino a noi che nel bisogno non sa come fare e magari non deve essere propositori, come ci chiede il Vangelo, di soluzioni di luce e di speranza e credo che questo ufficio, questo sportello lo possa essere per tanti. Quindi non si è soli, chi pensa ad avere questo tipo di difficoltà, ascolti queste trasmissioni e si rivolga con fiducia e dove troverà accoglienza e discrezione all'ufficio microprestiti della Caritas via Domizoni 64 alla Spezia telefono 730150 ovviamente 0187. Grazie a tutti e dal 2 luglio sintonizzati per seguire del debito del credito.